Con Samuele Puccioni, Samuele serviva soltanto vincere oggi per cercare di rimanere in scia e coltivare ancora il sogno del primo posto. Oggi una prestazione convincente da parte di tutti qua a Sarzana. Sì, ma questa è una partita fondamentale per il nostro futuro. Se perdevamo questa avevamo poche possibilità. Abbiamo vinto questa, abbiamo messo un gran cuore, una grande grinta, l'abbiamo vinta in difesa. Sono contentissimo per tutti i ragazzi e adesso bisogna, alla seconda parte di questa sfida, vincere contro di loro a Sarzana sabato. Allora, dietro te avevi due clienti abbastanza scommodi, comunque due lunghi che c'erano veramente. Stasera hai coperto molto bene l'aria, però bene anche i giovani che venivano da una settimana con sei partite consecutive. Probabilmente erano un po' stanchi, però nel terzo quarto la loro forza si è sentita. Sì, le finali hanno giocato le finali elite, loro sono stati, hanno fatto non so quante partite, comunque sono delle partite anche le finali nazionali che sono snervanti. Penso che hanno l'atteggiamento, è stato devastante, sono sempre soddisfatto. Questi ragazzi danno sempre il massimo di loro e mi sbalordiscono ogni partita sempre di più.